La vendita diretta collettiva, che rappresenta un po' un avamposto della commercializzazione agricola, con la realizzazione di una bottega, il mercato nostrano, inteso proprio come il mercato che rappresenta proprio la genuinità del territorio e praticamente raccoglie la produzione di circa 25 produttori agricoli che hanno utilizzato uno spazio comune e collettivo nel centro della vicina cittadina di Sulmona. Questo perché naturalmente consente non soltanto di creare una commercializzazione all'interno di un'area più popolata dei nostri piccoli paesi, ma soprattutto rappresenta un punto di riferimento anche per il turista che visitando la città ha voglia anche di trovare delle eccellenze del territorio e quindi non ha la necessità di dover trovare magari 3, 4, 5 aziende per riportarsi un prodotto tradizionale, ma è in grado di poter scegliere in un negozio abbastanza fornito quelle che sono appunto tutte le tipicità di questa area. Questo naturalmente vuole rappresentare anche un elemento di confronto e di stimolo per la popolazione locale che molto spesso va a cercare il prodotto tipico in Trentino piuttosto e da qualunque altra parte e non conosce le ricchezze che il nostro territorio è in grado di offrire. Grazie a tutti! Grazie a tutti!